ecco dovremmo essere diretta buongiorno e benvenuti a questo nuovo incontro in videoconferenza oggi siamo in collegamento con il presidente federal berghi della regione liguria e membro del direttivo nazionale dottor americo pilati benvenuto presidente buongiorno grazie allora finalmente è arrivato il tanto atteso decreto pure italia di aprile il governo ha stanziato 5 miliardi di euro al ristoro delle imprese turistiche per compensare il disagio economico la ripartenza pensa che sia una misura soddisfacente non vorrei lamentarmi sempre altrimenti ci dicono che siamo dei dei lamentosi certamente il bonus di 500 euro che poi si traduce in 400 euro no non è il massimo però ben 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 venga ben venga questo per il resto aspettiamo perché già il bazooka della legge di aprile dava 25 mila euro qui e là però alla fine poi noi non abbiamo visto niente quindi io credo che ci vuole ci vogliono dei 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 soldi a fondo perso e e forse non basta lo sforzo che hanno fatto però adesso a vediamo vediamo un attimo dottore vediamo un attimo ecco il protocollo in è compatibile quello con quello che avete proposto voi come federalberghi al ministero del turismo in accettabile lo rispediamo al mittente con quelle condizioni non possiamo aprire non possiamo aprire perché è inattuabile nato abbi sulle distanze inattuabile sui buffet inattuabile da tutte le parti quindi se passa il protocollo fatto dalle tre associazioni federalberghi confindustria e confesercenti no e se la fanno proprie le regioni no allora apriamo e apriamo in sicurezza se invece non dovesse non dovessero essere accettate quelle linee delle regioni praticamente pochissimi potranno aprire e l'assurdo sarebbe avere gente non avere alberghi e non avere ristoranti aperti ecco io tra l'altro con quel protocollo me lo sono sfogliato tutto sono 30 pagine devo dire che è fatto anche molto bene ecco il decreto cura italia considera il contagio da coronavirus in ambito di lavoro come un infortunio meritevole in quanto tale di ricevere la copertura assicurativa inai il datore di lavoro pertanto è potenzialmente esposto alla responsabilità civile e penale lei cosa ne pensa ne pensiamo che al primo momento era inaccettabile non l'abbiamo non lo non si riusciva a digerire poi andando e informandoci e leggendo profonde in profondità se noi manteniamo le linee guida che ci siamo dati no è inattaccabile e quindi non dovremmo rischiare più di tanto ecco quindi il cliente se si ammala se ne va sanifichiamo la stanza e le tende e tutto va come si deve naturalmente bisogna spiegare bene e tutelarci con delle dichiarazioni scritte firmate dai clienti in modo che quando non tornano a casa non ci facciano causa quindi io credo che con un po di buona volontà e sacrificio riusciamo a superare anche questo grosso scoglio benissimo ascoltando esponenti illustri di altre associazioni di categoria come la vostra sono concordi nel fatto che il ministero del turismo deve essere guidato da un ministro proveniente dagli addetti ai lavori e senza altra delega in quanto ministero di una filiera che produce il 15 per cento di pil e d'accordo anche lei con questa posizione assoluta il turismo è sempre stato sfortunato sotto questo aspetto ma perché perché un argomento molto 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 delicato da trattare bisogna conoscerlo profondamente e forse lo conosce solo un albergatore che ci ha fatto una vita in albergo e conosce tutte le sfaccettature per assurdo è più facile fare il ministro di altri settori che fare il ministro della del turismo certamente turismo e cultura messi assieme secondo mio parere è anche una fregatura e ritornando all'uomo l'attuale ministro si può dire senza vergogna non è all'altezza di affrontare l'argomento turismo lo la vede lo vede vedete l'enit quanti anni questo carezzone carozzone continua a esistere no e non produce e non produce a sufficienza no quindi direi che tutti noi sogneremmo un grande esperto di turismo di turismo al a capo a capo della del 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 settore è difficile è difficile è difficile è difficile purtroppo forse ce l'avevamo nel nell'altra legislatura con quando c'era centina ecco quello è un grande conoscitore profondo del turismo ecco facciamo un esempio ci vorrebbe un uomo di quel genere lì ci tranquillizzerebbe molto ecco benissimo e notizia di ieri sera che l'unione europea dal 3 giugno apre alla libera circolazione tra stati senza obbligo di quarantena per tutti i cittadini sicuramente una bella notizia per voi che siete vicini al confine lei è proprietario di due bellissime strutture alberghiere a diano marina vogliamo anche nominarle l'hotel metropol che è un hotel panoramico 4 stelle e l'hotel ed in park direttamente sul sul mare ecco di conseguenza lei ha tanti turisti che vengono dalla dalla francia per cui dalla dei paesi stranieri durante il periodo estivo no secondo lei è giusto che sia aperto il confine così ci vuole una regolamentazione oppure è bene che sia un'apertura indiscriminata dei confini nazionali lei lei magari mi dovrebbe aiutare o mi è sfuggito qualcosa ma secondo me l'italia che ha aperto le frontiere no non è la germania perché la germania per esempio apre le frontiere mi sembra 15 di giugno la francia si è già espressa stanotte non credo quindi non riesco non ho capito la sua domanda esattamente la germania e l'olanda ecco me la rifaccia perché è da quello che non è notizia appunto di riservi che l'unione europea aprirebbe con qui tutte le frontiere sono chiuse meno le nostre ma noi con le nostre non ci facciamo niente a noi interessa avere la frontiera francese aperta la svizzera e la e la tedesca o sbaglio sicuramente però al di fuori dell'unione europea non potrebbero arrivare i turisti per cui i turisti americani turisti giapponesi turisti della russia non potrebbero arrivare nel nostro paese se i confini la russia abbia dato possibilità di un'apertura anche anche lei verso la metà di giugno i giapponesi sono a pannaggio delle città storiche gli americani sono piuttosto clienti purtroppo dalla nostra liguria di levante quindi eh tremo levante sì cinque terre da noi americani e tutto il resto sono ben pochi quindi e il male sarebbe minore però da come si dice quest'anno dovrebbe essere un turismo eh di casa un turismo di vicinanza io sostengo io sostengo che dovrà anche essere un turismo della germania di in vicinanza della svizzera e della francia per poter almeno racimolare il 50 per cento delle presenze dell'anno scorso ecco altrimenti con solo gli italiani credo che non andremo da nessuna parte certo voi avete stabilito una data di apertura delle vostre strutture guardi io come presidente ha sempre cercato di di essere positivo e di dare eh di dare nei mesi scorsi nel mese scorso un inizio un pensiero d'inizio verso il primo di giugno eh dopo che la Germania ha chiuso fino al 15 di giugno ho cominciato a cambiare idea e anche io mi sono spostato verso il 15 ora arrivo a pensare che forse è meglio aprire verso il 20 di giugno quindi la data massima eh dell'inizio dovrebbe essere più o meno dal 15 al 20 di giugno ecco nonostante lei non sia d'accordo con il protocollo IMS quali sono gli strumenti però che eh avete cominciato magari a preparare ad adottare per la la riapertura parliamo di termoscanner distanziamento sanificazione distanziamento di tre metri negli ombrelloni in piscina la sanificazione dei dei tavolini e dei lettini eh in piscina e per chi ha le spiagge la stessa cosa è anche un grande stabilimento balneare terremo le distanze come è stato stabilito dalla regione Liguria quindi i dieci metri quadrati per ombrellone più o meno no quindi tre metri di distanza fra un ombrellone all'altra ecco più più o meno qualche centimetro più o meno e sanificazione giornaliera delle 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 lettini e così verrà fatto anche per i tavolini eh dei terrassi per le sedie per la sala anche e il plexiglass eh alla reception il plexiglass la reception le le camerieri naturalmente eh con eh con mascherine e guanti le cameriere con eh in ogni camera eh con gli stivaletti come che si mi posso dire e quel sopra scarpa in plastica che poi viene buttato via il la biancheria in un sacchetto eh per ogni camera la biancheria sporca in un sacchetto in ogni camera quindi portata non eh camere col biancheria e così anche per l'immondizia delle camere quindi in linea generale no eravamo pronti anche al buffet eh il buffet delle colazioni che diventa importantissimo è importantissimo al giorno d'oggi perché è richiesto soprattutto dagli stranieri ma anche dai italiani adesso si sono abituati e la regione questa notte ha detto no ai buffet noi non insisteremo per avere il buffet il buffet magari non service no ma il buffet il buffet servito perché noi abbiamo mille voci nel buffet quindi sarebbe praticamente impossibile fare una lista e andare a servire eh tutto quello che noi diamo al buffet al giorno d'oggi quindi mi auguro che il buffet rimanga naturalmente non a self service ma servito da un nostro dipendente con mascherine eccetera benissimo volevo chiedere lei come presidente ho risposto a tutta la sua domanda ho dimenticato qualcosa ma no volevo chiedere lei come presidente di federalberghi ehm al sentore che qualche piccola attività eh alberghiera possano riaprire per la stagione estiva parlando di regione di Liguria ovviamente sicuramente quelle che quelle quegli alberghi che lavoravano esclusivamente con i pullman no tedeschi inglesi ora credo che quelli non potranno aprire perché immagino che le distanziamento del del pullman delle persone sarà di un metro quindi un sedile 25 persone per pullman quindi io credo che quegli alberghi purtroppo sono destinati quest'anno a non aprire poi eh sull'onda eh diciamo di questi due mesi di chiusura di di pensieri di tristezza di mancanza di soldi e di tante altre cose potrebbe che qualche albergo purtroppo non riesca aprire per mancanza di di liquido no eh mi risulta a ogni modo che molti eh quasi tutti eh siano disposti a ad aprire però eh bisogna forse aspettare ancora qualche giorno che abbiano le idee chiare delle linee guida e poi da lì decideranno sempre pensando però di aprire perché noi vogliamo aprire e la gente dov'è noi prenotazioni non ne abbiamo quindi apriamo al buio quindi siamo dei coraggiosi vogliamo eh non lo so guardi è enorme la situazione eh dottore eh come lei potrà immaginare perché una volta avevo tutto l'inverno mi caricavo le mie prenotazioni eccetera eccetera adesso eh decido di aprire vabbè ma con quale gente ci sarà l'ultimo momento arriveranno eh migliaia di prenotazioni non lo so non lo so quindi attenzione voglia di aprire se lei dovesse rivolgersi prego prego no finisco ci preoccupiamo sanificare bla 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 poi gli italiani che hanno già fatto le ferie gli italiani che sono stati in cassa integrazione gli italiani no abbiamo un tipo di clientela di media di media eh base e quindi avranno i soldi per venire gli stranieri quindi capisce siamo siamo degli degli avventurieri in questo momento no bisognerebbe il discorso del voucher può essere uno strumento alla fine di giugno aprire le prenotazioni e vedere cosa succede certo che il giugno secondo me sarà già sarà parzialmente già bruciato ecco non so se lei del mio ragionamento dicevo il discorso del voucher di 500 euro o 400 che abbiamo menzionato prima può essere uno strumento valido per poter fare arrivare le persone oppure no qualcosa qualcosa guardi io non lo so eh se uno deve fare un inter un inter per avere questo certificato no se lo fa o se dice ma fatti benedire farà un giorno in meno eh e vado senza voucher non lo so o non vado perché il voucher non è sufficiente eh per le mie tasche bisognava che fosse qualcosa di più non lo so sicuramente sicuramente qualcosa serve però dirle dire che sono sicuro che verranno a frotte col buono o poca o poca poca speranza se lei si dovesse rivolgere i suoi colleghi bergatori della liguria cosa si sentirebbe di dire in questo momento gli direi direi come ero fiducioso nello stato fiducioso eh che eh ci fossero eh delle linee guida eh abbastanza accettabili eh mese fa quindici giorni fa eh avrei direi apriamo dobbiamo aprire per il nostro personale soprattutto stagionale che è dall'anno scorso che non guadagnano una lira che le 600 euro non le hanno viste quindi per un discorso anche umano no perché noi siamo un l'albergo è una società di 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 servizi eh è inutile avere il più grande albergo del mondo se non se non hai il personale eh capace quindi per noi personale è viaggia a braccetto diciamo eh diciamo la verità quindi dare da lavoro al personale è una spinta morale non non indifferente quindi questa la sentiamo sulle spalle come responsabilità ci devono dare una mano e concludo su questo passo devo dare una mano di rendersi la vita un po' facile perché sul pullman vanno e hanno un metro eh sul treno eh eh camminano e le a distanze sono quelle che sono non è possibile identificare nel settore alberghiero nel settore alberghiero tutte le distanze che in altre situazioni eh non ci sono ecco ecco volevo chiedere una cosa per quanto riguarda la federal berghi lei ha contatto ovviamente sia con il presidente bocca che con tutti i consiglieri regionali Luca il direttore generale esatto volevo chiedere eh avete tutti la stessa opinione regione per regione o c'è qualche regione che si discosta dalla vostra eh posizione? ma eh eh come posso dire il presidente è il presidente di tutti quindi il suo atteggiamento il suo atteggiamento eh 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 il pensiero va a tutte le le componenti naturalmente poi ci sono le diversità eh i presidenti di 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 città come Milano, Firenze, Roma e Venezia per fare l'esempio no? hanno un turismo a camera a colazione quindi problematiche molto inferiori eh molto meno eh ragionano e dicono vabbè ho 300 camere ne aprirò 150 eccetera eccetera però noi eh che siamo Liguria no? eh mediamente gli alberghi hanno 50 posti nell'arco dei 1400 letti stimiamo 75 mila camere quindi non è che 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 abbiamo eh allora la sala da pranzo è calibrata purtroppo per 50 persone no? non è l'albergo Hilton per fare un esempio che ha tre sale ma o poi fa camera e colazione soltanto noi dobbiamo fare colazione, pranzo e cena quindi eh non è non è non è non è facile quindi eh alla fine probabilmente apriremo in tanti certamente certamente eh il distingo fra 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 balneazione e città d'arte e delle volte le scelte eh sono propendono per eh chi è più grande chi è più eh più come posso dire ha più interessi essendo le proprie convenienze diciamo no? ecco sì ecco non so se se ho reso l'idea quindi qualche volta si sente si sente fra di noi no? la differenza no? di un albergatore della Romagna o di un albergatore della Liguria no? eh si sente più piccolo di un albergatore di Roma noi magari facciamo la pensione completa a dico una cifra 80 euro per persona al giorno e loro fanno una camera doppia 200 euro a notte mi capisci bene che eh sono 160 euro per camera però loro li danno solo la colazione e noi dobbiamo dare pranzo cena e colazione non è la stessa cosa quindi bisogna comprendere cioè il valore il valore del 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 dell'incasso no? il nostro il nostro valore poi alla fine rimane rimangono le briciole ecco certo volevo chiedere invece per quanto riguarda la situazione covid come è stata e come attualmente lì a Diano Marina ma noi abbiamo avuto a Diano Marina non abbiamo avuto due casi in albergo sono stati chiusi a febbraio avevamo dei gruppi eh di anziani che svernavano dalla bergamasca purtroppo tutti e due eh morti pochissimi per fortuna due o tre quindi Diano Marina è stata un po' un'isola felice eh la popolazione ha mantenuto bene le distanze la popolazione eh ha risposto bene c'è stato poca gente in giro ecco se mi posso permettere di aggiungere il mio pensiero però è questo dottore pensi Diano Marina ha 5.000 6.000 abitanti sono 4.000 aletti di alberghi ed estate andiamo a 50.000 persone seconde case si immagini che adesso c'era la la fila alle farmacie la fila ai supermercati eh la fila eh tante altre situazioni che adesso non mi vengono in mente io non posso pensare quest'estate quando eh tutti verranno immagino le seconde case occupate perché non se ne andranno in ferie quest'anno adopereranno le seconde case cosa potrà succedere no nel distanziamento no dalla passeggiata i nostri carugi sono piccoli quindi eh la mia rabbia è che si va a identificare l'albergo eh facile da trovare 50 alberghi licenze DPS subito identificati no ma tutto il resto che circola come sarà da chi sarà controllato naturalmente non dai vigili perché i vigili manco hanno eh eh come posso dire eh sono sufficienti per 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 eh per tutta questa massa di persone quindi non ci sarà un controllo capillare sulle appartamenti no sulle e su tutto il resto dell'estra alberghiero ma soprattutto sui subaffitti termino e dico e sulle spiagge pubbliche libere al territorio cioè la spiaggia nostra identificata ban 10 metri quello che è sanificazioni bam 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 e le altre e le le spiagge libere cosa succederà per esempio dovrei terminare quello è un bel problema effettivamente appunto dicevamo prima lei è una grande spiaggia e giustamente lì avrà dei grossi problemi anche per il numero dei posti diciamo a 250 ombrelloni ne perderò 100 no e va bene 150 mi rimarranno naturalmente non dovrò assumere un bagnino eh al bar invece che non dovrò assumere un bagnino e non dovrò assumere un bagnino e non dovrò assumere un bagnino e non dovrò però ce la faccio si immagini uno che ha una spiaggetta di 30 ombrelloni eh no che ce ne sono tante quindi grande crisi anche se il distanziamento è solo di tre metri fra ombrellone ma si sentirà si sentirà capito sì sì no sicuramente io eh concluderei lasciandole eh fare un appello ai turisti per venire nelle sue strutture non appena avrete la possibilità di aprire vuole fornire il i dati per potervi contattare numero di telefono indirizzo mail sito internet ecco le due strutture riprendiamo sono l'hotel metropol e l'hotel Eden Park di Diana Maricolo e lei questo ce l'ha la mia e-mail ce l'ha vero? sì io ce l'ho sì esatto sì il mio numero di telefono anche no e un messaggio ai nostri clienti io sono un albergatore che ha 61 anni no di carriera alle spalle quindi credibile aprirò pensando ai miei dipendenti e ai miei ospiti questo è sicuro quindi metterò a repentaglio magari la mia la mia salute ma sicuramente la salute dei dei turisti dei miei ospiti del mio personale mi atterrò a tutte le regole purché ci lasciano vivere e l'albergo non diventi un ospedale perché a questo punto dico di no benissimo allora io eh pregherei ancora due minuti di rimanere in linea al dottor Pilati quando usciamo dalla diretta volevo salutare tutti i nostri aspettatori che ci hanno ascoltato ci hanno visto in questa mezz'oretta 40 minuti di videoconferenza do appuntamento al lunedì mattina eh per un'altra videoconferenza istituzionale avremo con noi l'assessore della provincia autonoma di Bolzano l'assessore al turismo appunto per disquisire sulle tematiche relative al all'alto adige ecco ringrazio di nuovo il dottor amico Pilati e buona giornata e buon weekend a tutti grazie e buona estate a Diano Marina speriamo a Diano Marina bene